Benvenuti, questa è la ottava puntata di Terzo Canale Show, i soliti ringraziamenti. Intanto i ragazzi e il professor Donato Di Bello sono dietro le telecamere in questo momento che stanno consentendo di registrare questa puntata di Terzo Canale Show. Grazie anche al direttore Emanuele Soldini. Siamo all'OIED di Milano, l'Istituto Europeo del Design, un momento storico, storia dell'economia di questo Paese, leader nel mondo ancora oggi del designer. Faremo qui questa puntata come abbiamo fatto anche la precedente. Come al solito vi ricordo che Terzo Canale Show rappresenta il mondo dell'impresa responsabile, del lavoro responsabile, quindi mettete a scorrere sotto di me i nomi delle aziende, la Sodale e di Assimpoi, che ci aiutano in questo processo di divulgazione sulla responsabilità d'impresa. Vedrete, avete già visto i titoli di apertura della The Blues Drifters, la band che ci accompagna e che ci farà vedere ancora una volta, ci farà sentire soprattutto i grandi momenti del blues di tutti i tempi. Puntata dedicata, come avete sentito, dai titoli, dalla finanza responsabile e non potevamo che cominciare da quella che per certi aspetti è una vera e propria icona nel nostro Paese, ma anche a livello europeo, di finanza responsabile. Ci sono molti modi per leggere il concetto di responsabilità della finanza, le vedremo durante questa puntata, diretta, indiretta, interna ed esterna, ma Fondazione Calipro, che è rappresentata con noi qui, il professor Rocco Corigliano, Fondazione Calipro è decisamente uno dei luoghi in cui questa finanza responsabile si tramute in fatti concreti. Vi do solo due numeri, 8 miliardi di patrimonio, 200 milioni di euro all'anno erogati in beneficenza. Il professor Rocco Corigliano ha anche scritto un libro, che poi magari vi consiglieremo con i nostri mezzi digitali di leggere, ma intanto, professore, come è possibile una norma di patrimonio, come funziona Fondazione Calipro, come è possibile 200 milioni all'anno, quasi come un ministero vero e proprio, diciamo, prima della trasmissione, nel senso migliore del termine. Nel senso più buono del termine. Come funziona il meccanismo di erogazione? Beh, intanto il fatto che io sia qui vuol dire che è possibile, non è semplice, ma è una cosa sicuramente possibile. Ricordo che il nostro motto è Tutte, servare, munifice e donare. Quindi noi siamo una fondazione che ha ricevuto un determinato patrimonio e questo patrimonio deve essere messo a frutto in modo tale, in primo luogo, da conservare nel tempo il valore reale di questo patrimonio. E in secondo luogo, per consentire che i frutti di questo patrimonio possano dar luogo alle cosiddette erogazioni. Erogazioni significa per noi finanziare, a titolo evidentemente di donazione molto spesso, innumerevoli progetti che fanno sostanzialmente il bene della persona, della società. Quindi hanno un impatto sociale notevole. Se posso tornare al tema di come facciamo a far fruttare il patrimonio. Beh, noi abbiamo investito il nostro patrimonio per oltre il 70% in investimenti cosiddetti liquidi. Cioè investimenti finanziari veri e propri. Investimenti finanziari, sui mercati finanziari. Dovete essere bravi anche a fare bene queste cose. Cerchiamo di esserlo. Per non sbagliare, insomma. È molto facile sbagliare. Il mondo della finanza è diventato sempre più complicato e complesso. Quindi è un mondo nel quale bisogna operare con specialisti e con grande attenzione. E poi su questo siete stati bravissimi. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio perché, ripeto, il nostro principale obiettivo è conservare il valore reale del nostro patrimonio. Quindi questo l'abbiamo ricevuto e vorremmo lasciarlo a quelli che ci seguiranno per fare del bene. Quindi noi investiamo oltre il 70% in beni cosiddetti liquidi, strumenti cosiddetti liquidi, quindi sui mercati finanziari. Poi c'è una grossa fetta che è rappresentata dalla partecipazione della nostra banca conferitaria, cosiddetta, cioè Intesa San Paolo. Intesa San Paolo. E poi c'è un'altra porzione, quella restante, circa 7%, che sono i cosiddetti Mission Connected Investment. Cioè sono quegli investimenti che sono più direttamente collegati con la missione propria della nostra fondazione. E sono, diciamo, gli investimenti nei quali si esercita il cosiddetto Impact Investing. Cioè vorremmo dare una qualità ai nostri investimenti che non sia solo di rendimento finanziario, ma che abbia anche un impatto sociale, ma attenzione, un impatto misurabile. Quindi il nostro obiettivo, che non è facile, perché la stessa dottrina in questo campo sta procedendo con grandi difficoltà, è cercare di misurare qual è l'impatto sociale di questi investimenti. Per noi è un discorso molto impegnativo, perché naturalmente siamo investitori molto particolari sul mercato finanziario. E investitori di lungo periodo, investitori pazienti. Quindi cerchiamo di fare questi investimenti con criteri che siano, da un lato, impieghi del patrimonio, quindi investimenti di lunghissimo periodo, e dall'altro realizzare questi obiettivi sociali con le erogazioni. Quindi gli investimenti socialmente responsabili per noi hanno questa duplice veste. Ci riescono molto bene, sono molti anni che Fondazione Caripro ha questo ruolo e devo dire, come testimonianza personale, che non mi risulta, non mi ricordo che ci sia mai stata una contestazione, mai un segno di privilegi o di sopravfazione da parte di un ente così importante. Onore al merito di Fondazione Caripro, ci dispiace non poter ascoltare ancora il professore, si intuisce che c'è un mondo da esplorare, ma lo faremo con tutta la gamba. Grazie, professore Rocco Corigliano, assolutamente sì. Noi vi lasciamo alla pennellata musicale di The Blues Drifters.